Flash Crash improvviso di Bitcoin questa notte, mercati in grande sofferenza, che cosa è successo ragazzi? Non è un video preparato ma non potevo lasciarvi non questa domenica in questa situazione, quindi ho detto facciamo questo video sul Flash Crash e andiamo a cercare di capire quello che sta succedendo ragazzi è una situazione un po' delicata, abbastanza, perciò ragazzi allora prima di andare a vedere un po' di grafici un po' di situazioni, poi il video diciamo più importante sull'analisi tecnica e ciclica è quello che c'è da aspettarci per la prossima settimana, lo facciamo domani come sempre ragazzi però per questo video andiamo a focalizzarci su quello che è successo, vi spiego alcune motivazioni, quello che è accaduto, come sono state fatti questi movimenti e poi se la situazione attuale potrà continuare o meno nei prossimi giorni vi do un briefing poi approfondiamo comunque domani, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto fatemi sentire anche con i pollici ragazzi, la vostra vicinanza perché stare sempre sul canale anche così in live velocemente lo faccio per dare una mano a tutti perché so che molti di voi si stanno impanicando in questo momento quindi lo faccio col cuore però fatemi sentire la vostra presenza con i pollicioni poi tra le altre cose ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto sulla masterclass che farò con XBT per il 21 di aprile ragazzi allora il 21 di aprile ci sarà questa masterclass con XBT, iscrivetevi dal link che vi lascio in descrizione allora se cliccate e vi iscrivete è gratuita quindi non c'è nessun problema ci saremo io, Marco Casario e Leonardo Pinna, vi ho già accennato a questa masterclass gratuita ragazzi importante perché parleremo proprio delle tecniche di breve periodo che spesso sono anche estremamente sottovalutate dal mio punto di vista perché ragazzi moltissimi parlano e dicono diciamo le tecniche di lungo periodo sono migliori ma non è del tutto così bisogna capire un po' anche la propria propensione al rischio per esempio proprio per questioni riguardo ai flash crash e quant'altro le tecniche di breve sono sicuramente meglio ragazzi e meno rischiose quindi ne parleremo approfonditamente poi è cultura, la cultura gratuita in questo caso quindi offerta da XBT bene così ragazzi vi lascio il link, iscrivetevi ok andiamo al graficone, graficone di bitcoin, vi spiego tutto quello che è successo ragazzi il flash crash è avvenuto questa notte, vedete qui la candela intorno alle 5 del mattino questa candela di natura oraria quello che è successo che ha scatenato l'inferno per citare il film 300 è stato il break di questo livello di supporto molto importante 58 e 5 circa 1000 dollari cioè il rientro nella precedente fascia di trading range che aveva bloccato bitcoin per un po' di tempo qui c'era stato un break, questo viene definito come un fake break del livello e poi il rientro brusco, improvviso, bruttino che è avvenuto ragazzi proprio in questa fase allora sono stati liquidati ragazzi circa 9 billion di long guardate quello che è successo è da queste cose che avviene il flash crash ragazzi vi spiego come avvengono queste liquidazioni nel momento in cui il mercato va a toccare un livello estremamente importante come questo qui che è un livello tecnico, un livello tecnico che moltissimi investitori dicono ok se va giù da quel livello io personalmente esco dalla posizione e metto lo stop loss in quel caso questo è un livello talmente importante che moltissimi hanno messo lo stop loss esattamente lì e quello che è avvenuto è che il mercato una volta raggiunto quel livello va a toccare tutti gli stop di queste posizioni long e quindi man mano che vengono toccati gli stop, gli stop order si trasformano in market ragazzi e quindi danno il via a una vendita a catena di ordini market e liquidation long e avviene praticamente un tocco di un livello poi long 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 vengono tutti liquidati quindi sell 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 e vengono venduti tutti e poi come un domino a catena e fanno questo che vedete questo flash crash questi flash crash avvengono proprio per questo motivo e avvengono in pochissimo tempo ragazzi adesso se vi zoom questa candela vedete che il flash crash bitcoin è avvenuto in circa 7 minuti una cosa incredibile anche perché questi mercati sono fortemente attenzionati da botto e da sistemi di trading quantitativo io ne so qualcosa ragazzi e quindi per questo avvengono con questa immediatezza quindi bisogna anche ragionare quando si creano i sistemi e le strategie a capire questo mercato il mercato crypto è un mercato particolare non è uguale agli altri tipi di mercati ragazzi allora quello che è successo e ve l'ho spiegato in maniera abbastanza chiara esattamente è stato questo ora la questione che moltissimi magari mi hanno chiesto a dire la verità ragazzi alcuni di voi mi hanno già mandato email la domenica la domenica è domenica non mi scrivete mail vabbè non sto scherzando scrivetemi pure la domenica ma il buongiorno me l'avete dato con bitcoin flash crash voglio fare questa domenica fatemi alzare e prendere un caffè va bene ragazzi io vi voglio bene veramente penso si veda anche dai miei atteggiamenti allora mi avete chiesto allora cosa faccio bisogna essere preparati prima ragazzi non c'è un'altra soluzione questa è la questione se non siete preparati prima di andare a incontrare queste fasi con i trading plan con quello che abbiamo detto la scorsa settimana vi ho fatto vedere il mio schema che stavo seguendo anzi vi metto il link del video della scorsa settimana andatevi a vedere quel video ok andatevi a vedere quel video che è successo qua è scambiata cosa andatevi a vedere quel video perché all'interno di quel video ragazzi io dicevo proprio lo scenario che definivo va bene lo scenario si è verificato ok questo è un'ipotesi a volte non va così non è quello il problema il problema è createvi lo scenario se si verifica che cosa fate trading plan pianificare quello che è la vostra strategia se siete investitori di lungo periodo una cosa del genere vi tocca sì e no un pochino lo vedremo magari nel video di domani ragazzi dove vi farò vedere anche cosa sto facendo io ma non del tutto se siete proprio investitori di lungo periodo ma nel breve e nel medio dovevate già essere fuori ragazzi insomma in academy noi siamo tutti fuori ne sono operazioni di breve tranne chi magari ha cercato di speculare ma non ha seguito me io non ho operazioni di breve sono tutte uscite prima ok perché perché il mercato dà dei segnali ragazzi e noi pianifichiamo queste cose usiamo dei trading plan e creiamo queste cose poi bisogna studiare chiaramente non è facile lo capisco questo è ragazzi non mi sto dicendo che domani mi mettete lì e diventate Warren Buffett non è questo a parte che Buffett non fa trading ok però diciamo non era proprio un esempio calzante però ragazzi è importante come gestire queste fasi ad essere preparati prima perché poi in queste fasi c'è la motività che vi gioca brutti scherzi quindi fate cose sbagliate per il 90% dei casi perciò non andate a trovarvi in prigione non vi mettete nel ring all'angolo con qualcuno che vi massacra di pugni con il mercato che vi dà le botte preparatevi prima le vostre strategie a quello che dovete fare come dovete ragionare se succede una cosa del genere se poi non succede siamo tutti felici e happy happy ok però se succede dovete prepararvi quindi trading plan a questo serve la formazione ragazzi a questo serve lo studio a questo serve andare a leggere a questo serve fare i corsi a questo serve ragionare vedere i video seguire i trader quelli che sanno fare le cose poi qui ognuno dice la sua e questo lo capisco è un mondo pieno di fuffa questo del trading però ragazzi poi ognuno di noi sa distinguere quello che è giusto da quello che non è giusto ok quindi questa poi sta alla nostra bravura quindi mi raccomando come affrontare queste cose andare a prepararvi prima ora però andiamo lo stesso sui grafici vi faccio vedere un po' di punti chiave poi domani li approfondiamo nel video della domenica scusate del lunedì quello di analisi ciclica e tecnica andiamo a approfondirli domani però oggi vi faccio vedere anche la pericolosità di questo movimento perché moltissimi potrebbero dire ah ma tanto questo movimento poi si riassorbe sì ma anch'io penso che nel lungo periodo il mercato diciamo continuerà questa fase però ragazzi ok io ragiono sempre trend is my friend in questo momento trend di lungo e long però ok allora neanche vado a mettermi i tappi lungo periodo ragazzi io c'ero lungo periodo quando ho visto i crolli degli anni del 2000 non è sempre così bisogna ragionare ragionare sulle cose quindi andiamo a vedere quello che sta facendo il mercato e vi faccio vedere dei punti che secondo me ritengo estremamente importanti allora ragazzi il punto più importante è che intanto sono su coinbase quindi non è sicuramente il exchange con i maggiori volumi però sono volumi rilevanti volumi puliti chiamerei io allora ragazzi quando è avvenuto questo spike di volumi in questo momento lo abbiamo già raggiunto per esempio nella giornata del 22 di febbraio vi faccio vedere anche il 22 di febbraio abbiamo avuto un flash crash del mercato guardatelo qui questo è il flash crash del 22 febbraio sempre in premio orario dopodiché il mercato ha fatto ancora una fase di ribasso per qualche giorno per circa una settimana cioè ha fatto un settimanale un ciclo settimanale ribassista in effetti mancherebbe ancora qualcosa per la ciclicità di aprile di aprile ne abbiamo parlato tanto vi spiegavo come la settima candela verde di aprile era difficile ma ne parliamo domani ragazzi tutto rimandato a domani questi ragionamenti però al momento guardate un po' se dovessimo andare a ragionare questo è stato l'atteggiamento dell'ultimo flash crash avvenuto di bitcoin qui siamo in una situazione similare per esempio qui ragazzi non era la stessa cosa vedete i volumi sono dimezzati rispetto a quello non è un flash crash questi sono solo spike ok ragazzi questo invece è un flash crash insomma ragazzi anche una serie di strutture porta un'idea che il mercato potrebbe non riprendersi facilmente magari fare una gambetta così qualche giorno ma poi magari ripetere quello che abbiamo visto a febbraio e fare una cosa del genere ora questo lo approfondiamo domani andiamo a capire domani se queste cose sono realistiche e dove si può arrivare ma ci tenevo a dirvi e a farvi vedere questa similitudine con il mese di febbraio proprio perché malagri moltissimi incominciano a buttarsi lì diciamo io compro ragazzi vi dico la verità allora se siete dei trader e degli speculatori e oggi che domenica volete lavorare beh in queste fasi di ribasso potete speculare ragazzi io utilizzo per esempio il mio broker prime xbt per fare queste cose ragazzi vi lascio anche il link del broker mi date una mano se volete testarlo perché ci sono i coupon con gli sconti in descrizione usateli però il discorso che io oggi che domenica non faccio queste cose quindi non farò nulla però in questo momento solo trader possono andare ad operare ragazzi se non siete professionisti o comunque non avete fatto i corsi non avete letto manuali già da almeno tre bar sei mesi lasciate stare ok godetevi il caffè della domenica il sole se c'è in qualche regione d'italia ok ci fanno fra un poco anche gialli non si capisce ci riaprono quindi lasciate stare il trading se non avete preparazione in questi momenti ok non sono adatti a prepararvi se volete proprio farlo fatelo in paper per stare sul mercato e studiare il mercato allora su questo mi piace perché è una bella idea colpe per te che potete studiare il mercato in questo momento ok per il resto vi ho fatto vedere questi livelli per ovvio per dirvi attenzione a correre a comprare fare shopping perché non è del tutto così semplice lo vediamo domani però nel video del ciclicità e dell'analisi settimanale classica va bene buona domenica a tutti mannaggia picco ciao ragazzi